questa è una casetta dotata che mi hanno animato vediamo la letta, dove fai? e si metteva musica non copyright musica non copyright musica non copyright ok e va qua dentro qua stop non sopporti perché non funziona non sopporti perché non funziona va, comunque non sopporti perché non funziona perché il corsa intestina non funziona non sopporti la casetta non sopporti un attimo e lì testina non sopporti su qualcosa l'out se vuoi qua quindi funziona ciao a tutti like questo video e commentate iscrivetevi al mio canale che è importante ciao 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 ciao